Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti da Sephora. Ebbene sì, ho fatto alcuni acquisti fatti da Sephora, ma sono dei prodotti per quanto riguarda la skin care. Ho preso un po' di cose, quindi ve li dico velocemente per non fare un video troppo lungo. Ho preso questo set per quanto riguarda il viso e abbiamo una maschera esfoliante a doppia azione, un tonico e un balsame dratante, che sarebbe questo. E questo set l'ho preso a 22,90€. Io sono molto curiosa di provare i prodotti di Pixi. Io ho soltanto il tonico, che mi ci trovo benissimo, e quindi volevo provare questo set. Poi 22,90€, questi prodotti io li ho presi poi con lo sconto del 20%, quindi ottimo. L'altro set della Pixi sempre è questo, ed è costato sempre 22,90€. E in questo abbiamo un detergente per la purificazione profonda, che sarebbe questo qui. Abbiamo il solito tonico e poi abbiamo una maschera per purificazione profonda, che sarebbe questa. Anche queste sono delle mini taglie, c'è scritto di quant'è, mi si intrecciano agli occhi. Comunque, sono delle mini taglie e vengono utilizzate proprio apposita per provare i prodotti. Io, come vi ho detto, il tonico l'ho già utilizzato. Questi, non mi sbaglio, sono quelli alla rosa e poi ci sono questi due. Presi sempre scontanti. Poi vi parlo di questi tre prodotti, che fanno parte della Oleor Skin. Io l'altra volta vi ho fatto vedere i due, dove c'era la crema e un contorno occhi. Questi invece sono tre prodotti, li ho presi a 25€. E questo è un trattamento anti-età, ricco di vitamina C, per combattere i segni dell'anvecchiamento. Quindi è adatto al 100% per me. In questo trovate il Serium, che sarebbe il siero, che è un siero anti-età per illuminare e idratare il viso, che sarebbe questo qua, arancione. Poi abbiamo la boccettina, questa qua, piccola. Il siero può essere utilizzato ogni giorno sul viso e collo. Poi abbiamo questa qui, azzurrina, che è il Sheer Transformation, ed è una crema idratante che nutre la pelle e uniforma il colore. E questo può essere applicato la mattina e la sera. E poi abbiamo quest'altro, che è Invigoration, che è un siero per ridurre i pori e i segni di espressione. E questo può essere utilizzato la sera e dovete applicarne a uno strato sottile. E per me, diciamo, questi set sono ottimi perché valgono il prezzo che hanno e soprattutto ti fanno provare determinati prodotti. Come l'altra volta avevo una crema e un contornocchi che sicuramente proverò perché ho molta curiosità, questo, essendo anche una quarantenne, automaticamente devo utilizzare questi prodotti proprio per aiutare la mia pelle ad essere sempre più luminosa, visto che ci sono anche segni di espressione e tutto. Non so se ve l'ho detto, è costato 25 euro. Poi abbiamo un altro prodotto, che sarebbe questo, ed è Day One in K. Questo l'ho preso a 18 euro. E ha due prodotti, uno è un collagene, che sarebbe questo, ed è un siero per rimpolpare la pelle. Me li sono scritti, per questo mi vedete abbassare gli occhi perché non me li ricordo e poi sono scritti in inglese, quindi non posso ricordare. E l'altro, invece, è un siero contornocchi. Io ho acquistato anche altri sieri che poi vedrete in altri video perché voglio provarli e testarli. Farò una settimana con una, una settimana con l'altra, proprio per vedere quali di questi sieri, diciamo, è più adatto al mio tipo di pelle. Perché sì, va bene la marca, sì, va bene tutto, però ovviamente dobbiamo provarli sulla pelle per sapere se questo siero è adatto a me oppure no. Poi ho comprato questo set che è dell'SS, se non mi sbaglio è per i pori, non mi vorrei sbagliare, dove trovate queste tre mini, 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 mini taglie, dove trovate un cleanser oil, quindi un sapone, diciamo, per pulire il viso, un olio rigenerante e una crema calmante per quanto riguarda il viso. E questo l'ho pagato 12 euro. Ero molto curiosa di vederlo perché l'ho visto utilizzare su un video di un americano, quindi mi sono messa in curiosità e ho detto voglio provarlo. Poi ho preso questo set che è della Everyday Glow Satur Skin, questo prodotto, qui abbiamo, sì, forse qui lo dice, comunque l'ho pagato 19,90 euro, questo set. E qui dice che c'è una crema all'acqua di ghiaccio, che è crema all'acqua di ghiaccio. Comunque aspettate che ve li faccio, ah, c'è anche una maschera. Aspettate che sono messe in queste, così, ve li faccio vedere. Allora, adesso vi dico cosa c'è perché leggo qui tutte le cose che ci sono scritte. Abbiamo una crema all'acqua di ghiacciaio, un gel peel off per eliminare le impurità, una crema con tornocchi illuminante, un detergente delicato e poi abbiamo una maschera probiotica forte, che sarebbe questa. Quindi abbiamo cinque prodotti in questa confezione, veramente a 20,90 euro, ed è fantastico. Sono degli ottimi prodotti. Io questi qua li ho presi perché li ho visti ovviamente recensire da un sacco di persone, tra cui anche Giulia Cova. Però non mi ricordo se era proprio questo set. E poi abbiamo quest'altro set della Laneige, che è questo, e sono dei bellissimi, veramente bellissimi prodotti. Adesso vi faccio vedere. Allora, c'erano questi stickers per quanto riguarda, diciamo, le agende e tutto. Vi dico anche quanto è costato. Aspettate che tolgo tutto. Questo kit è costato 24,50 euro e se prendete le full size, c'è una, ve ne potete andare di casa. Allora, vi faccio vedere cosa c'è in questo set. Prima che mi cada tutto. Allora, abbiamo uno skin toner. Questo skin toner toglie le impurità e riduce l'eccesso di sebo, che è questo. Poi, multi-deep cleansing, che è un detergente per la pelle. Poi abbiamo... dov'è? Il Blur Perfect, che sarebbe questo, ed è un perfezionatore di pelle, per una base perfetta anche per il trucco, che è questo qui. Poi abbiamo due creme. Una è una maschera, aspetta, qual è la maschera? Questa. Una è una maschera all'argilla e riduce l'eccesso di sebo. E una è una maschera idratante in gel. Questi cinque prodotti venivano la bellezza di... scusate, non l'ho già dimenticato, 24,50 euro. Sono questi cinque prodotti. Sinceramente, io adoro questi set della Sephora, perché sono fantastici, perché vi fa provare dei prodotti che di solito non acquisterete mai, perché il prezzo è troppo. Sinceramente, anch'io, quando vedo determinati prezzi, penso sicuro al 100% non li acquisterò, perché i prezzi sono molto, molto alti. Invece, prendendo questi set, sinceramente, l'acquisto ti viene molto più volentieri farlo. Perché? Prima di tutto li potete portare dappertutto, perché sono delle mini taglie. Vi danno la possibilità di provare quel determinato prodotto. Se ti piace il tonico, non ti piace la crema, non ti preoccupare, ti puoi comprare la crema e lasci perdere il tonico. Se ti piace tutto, io ricomprerei direttamente il set, perché hai delle mini taglie che puoi portarti in giro e sai benissimo di consumarli. Se invece volete prendere le full size, sapete il prodotto, già lo conoscete, perché vi danno la possibilità di provarlo, perché la boccettina, diciamo, anche queste, diciamo, la capienza ce l'hanno, perché... Scusate, ma se io guardo, mi intrecciano gli occhi, non riesco a vedere. Questo ha 10 ml di prodotto, qua dentro, cioè, dai, sono delle mini size fantastiche. Io questi set li ho scoperti tramite il video di Giulia Cova, poi ho visto anche dei video delle americane. Lì in America veramente ce ne sono molti, molti di più, però diciamo che qui ci stiamo anche avvicinando. Niente, ditemi cosa ne pensate giù nei commenti. Io non vedo l'ora di leggere i vostri messaggi, se li avete provati, non li avete provati, come vi trovate, se sono prodotti ideali per il mio tipo di pelle, perché io ho una pelle missa, ma tendenzialmente al secco, e automaticamente ho bisogno, infatti quando metto delle creme, metto dei sieri, loro, proprio, la mia pelle asciuga tutto quello che io li metto, quindi non vorrei proprio sembrare tipo arida per quanto riguarda il contorno occhi e tutto. Comunque, ditemi, ditemi tutto quello che pensate. Ovviamente scrivetemi un commentino qua sotto, e se vi fa piacere, noi ci vediamo al prossimo video. E quindi, come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!